27 dicembre 2021 L'acutezza della fede dall'Angelo secondo Giovanni capitolo 20 Il primo giorno della settimana Maria di Magda la corse e andò da Simon Pietro e dall'alto discepolo quello che Gesù amava e disse loro hanno portato via il Signor dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto Pietro allora uscì insieme all'alto discepolo e si recarono al sepolcro correvano insieme tutte e due ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro si chinò i vidi teli posati là ma non entrò giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette l'acutezza della fede di Giovanni è comparata con quella di Pietro il quale era invece caduto in una bolla di incredulità o perlomeno di resistenza alla fede Giovanni infatti nella stessa situazione credette il Cristo dalla sua risurrezione non per la visione del risorto ma per un dettaglio che lo indicava Pietro invece rimane nello stato di dubbio l'incomprensione dei fatti di mancanza e di prontezza già in passato il suo atteggiamento di umiltà gli aveva fatto implorare perdona al Signore per non avere creduto allontanati da me che sono un peccatore poi sempre per la sua umiltà aveva detto Signore io credo ma aumenta la mia fede durante la tempesta mentre Gesù veniva incontro agli apostoli nella barca di Pietro e gli disse se sei tu comanda che io cammini sulle acque poi spaventato per le onde cominciò ad affondare ed ecco allora il rimprovero di Gesù perché hai dubitato? Giovanni invece vedendo i teli piegati comprende che il corpo del Signore non era lì ma non lo avevano portato via poiché non si tolgono le bende ad un morto per piegarle ordinatamente e lasciarle sul posto durante un'azione di trafugamento le bende piegate sono il segno di una evidenza per Giovanni che vedendo crede ad un fatto pronunciato dal Signore ancora in vita ma che non entrava nella memoria e nella comprensione per la durezza di cuore tutti gli apostoli erano distorti dalla chiarezza della comprensione delle parole di Gesù a causa della loro aspettativa trionfalistica il fallimento umano della vita del Messia era insopportabile e non ammissibile perciò non rientrava la sua morte in croce e quindi neanche alla risurrezione Pietro rimane impigliato nel peccato che lo porta al rinnegamento Giovanni resiste ma è sconvolto dai fatti l'ultima cosa che aveva in mente era la risurrezione attraverso il passaggio di una morte in croce essa era stata davanti ai suoi occhi ma la durezza era eccessiva la sua fede non era in grado di contemplare il mistero della redenzione mentre le forze abbandonavano il crocifisso anche Giovanni percepiva solo l'agonia dell'amato maestro tuttavia se Pietro era tormentato dal suo peccato di fuga e rinnegamento e quindi si era reso ottuso alla comprensione lucida della fede Giovanni invece dopo gli eventi immediati pur nel dolore profondo torna ad avere il cuore pronto l'occhio si fa vigile e la sua dimensione spirituale profonda è di nuovo lucida basta il segno e crede perché comprende quello che era avvenuto quello che era stato predetto si era avverato Gesù era il Signore potente sulla morte che dopo la trasfigurazione era morto in croce come aveva predetto ed ora era risorto come aveva profetizzato vediamo certamente due indoli differenti in Pietro e Giovanni il primo ho chiamato comunque a confermare nella fede della Chiesa il secondo ad esplorare le profondità dello Spirito e a raccontare i fatti e le parole del Signore con un occhio differente dagli altri evangelisti da un lato la sua memoria la sua cutezza nel vedere e comprendere parole e fatti lo rendono testimone oculare privilegiato dall'altro la visione di fede la comprensione profonda delle cose della Spirito gli permettono di trasmettersi con semplicità eppure con profondità inaudita le realtà del Signore direttamente l'acutezza di fede si congiunge mirabilmente con il cuore di fanciullo con la purezza mentre la mentalità contorta e peccaminosa non consente di comprendere le cose dello Spirito e si pone come ostacolo alla fede dunque per noi l'insegnamento è grande più rinunciamo al peccato e viviamo nella purezza di cuore e degli occhi più la nostra fede diventa comprensiva e penetrante e con essa aumenta l'amore per il Signore e per i fratelli Dio vi benedica e per i fratelli